È stata una buona settimana, finalmente, perché non vincevamo da tanto tempo, quindi sicuramente il fatto di aver vinto con il Cagli e poi dopo di aver conquistato il secondo posto ci ha permesso di essere più sereni. Credo che la serenità ci possa aiutare invece a rendere il meglio domani e quindi mi aspetto dalla mia squadra una prestazione di livello per le qualità che abbiamo, per le qualità che hanno i miei giocatori, e comunque per la voglia che dobbiamo avere per finire bene il campionato, contro una squadra che soprattutto in casa ha fatto un gran campionato, che è la miglior difesa del campionato in casa e quindi abbiamo tutte le motivazioni per fare bene. Ho detto alla squadra che se riuscirò farò giocare tutti in queste due ultime partite e quindi vedrò che scelte fare domani e vedrò che scelte fare per l'ultima partita. Quello che conta è che abbiamo gli atteggiamenti giusti, che abbiamo la volontà giusta, la voglia giusta, ma credo che sarà così perché conosco troppo bene i miei giocatori e quindi faremo la partita che dobbiamo fare. Io faccio questo lavoro qua per emozionarmi e io mi sono emozionato qua con i miei giocatori e questa è la cosa più importante che va al di là di qualsiasi risultato, di qualsiasi critica, di qualsiasi beneficio che possa aver avuto, gloria o qualsiasi cosa. Io mi sono emozionato ed è questo che dirò sempre grazie a tutti i giocatori che ha allenato e soprattutto quei giocatori che sono con me da tanto tempo. I nuovi giocatori hanno dato una disponibilità e hanno una qualità importante. Hanno già fatto molto bene ma credo che possono fare ancora di più, anzi faranno sicuramente di più, perché chiaramente un anno di conoscenza, un anno di conoscenza del calcio, dell'ambiente, di una cosa diversa rispetto alle loro campionate. Si è formato un gruppo bellissimo, poi dopo abbiamo avuto dei problemi, abbiamo avuto dei risultati, gli alti e bassi, qualcosa che non ha funzionato, ma non per mancata disponibilità, professionalità, serietà, compattezza, unione, abbiamo avuto difficoltà tecniche, tattiche che purtroppo non ci hanno permesso di fare di più, ma dal punto di vista della disponibilità credo che, almeno per quanto mi riguarda, è totale. Io credo che Juric sia un ottimo allenatore, è un collega che stimo tanto, è difficile giocare contro Juric, questo sicuramente, e che però il Torino ha un passato, una storia, un brasone che credo che per l'ambiente sia difficile accettare delle stagioni di medio livello, ma credo assolutamente che Juric abbia fatto un ottimo lavoro. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS